Uno sportello rivolto ai cittadini in difficoltà con le cartelle esattoriali di Equitalia e questo l'obiettivo del primo punto civico di ascolto SOS Antiequitalia inaugurato a Francavilla dal gruppo del Movimento 5 Stelle. L'iniziativa è al momento l'unica in Regione Abruzzo e metterà a disposizione una serie di esperti, commercialisti, avvocati e psicologi che gratuitamente cercheranno di indirizzare verso la soluzione i problemi relativi alle cartelle. Noi abbiamo intenzione praticamente di assistere queste persone, dare consigli, informazioni quelle prime nozioni che sono necessarie per cominciare ad affrontare la problematica poi chiaramente indirizzeremo nei vari professionisti coloro che poi hanno bisogno di portare avanti la pratica chiaramente non vogliamo strumentalizzare la questione però penso che in questo momento c'era bisogno di avere uno sportello come questo è aperto il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 11 in un previo appuntamento, abbiamo una mail, insomma le troverete comunque anche pubblicizzate e in quella sede poi cominciamo ad affrontare con le persone la problematica con la documentazione che ci porteranno e cominciamo a dare così i primi ragguagli e le prime informazioni. Lo sportello fa seguito ad una lunga battaglia che il Movimento 5 Stelle conduce dal 2014 proprio contro Equitalia. I grillini infatti più volte hanno invocato l'abolizione della società di riscossione presentando anche una proposta di legge in Parlamento destinata a trasferire le competenze attualmente in capo ad Equitalia alla Agenzia delle Entrate. Questo è il primo sportello ma è un sportello a valenza regionale io ringrazio il gruppo di Francavilla capitanato da Livio Sarchese dal nostro consigliere comunale che sarà il responsabile di questo sportello ogni cittadino potrà richiedere aiuto, tutela è una grande rivoluzione è una delle tante rivoluzioni che il Movimento 5 Stelle ha messo in piedi in questo Paese.